Addrizzati, vai dritto, sinistra, non tutto, pie delicato, devi seguire la strada, la curva, vedi quando ti incominci a addrizzare, devi mantenere il perimetro, capito Torè? Addrizzati, vai dritto, fra un po', gira, 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 ok, incomincia ad addrizzarti, addrizzati, 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 accelera poco poco, poco poco così, lascia l'acceleratore, non frenare, gira adesso, comincia a girare, delicato, tutto sotto controllo senza aggirarsi, passa dietro il sedere di questa Mercedes e va dritto verso quella bianca, dritto per dritto così, accelera poco poco, mantieni un po' più da destra, perché ti devi allargare per poi poter creare lo spazio per rigirarti, senza accelerare, sterza tutto, 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 tutto ancora, non accelerare, lascia l'acceleratore, tutto a destra, senza andare addosso al muro, vai dritto, non girare ancora, vai dritto, mantieni il perimetro che ti serve per prendere confidenza con le misure, sinistra, fa conto che non te lo dico, tu non gireresti comunque a sinistra, tra l'altro si sbatte, no? Mazza che melocranio. Beh, quello che sta guardando anch'io, vai dritto, qua c'erano dei fori. Guarda le macchine, più avanti devi cominciare a girare, gira, gira tutto così, attrezzi e comincia a attrezzare, se no fai giro giro tondo, o se non ti attrezzi, la macchina si riattrezza subito dopo che inizia la curva, se no fai il cerchio, vai dritto, se no c'è un attento alla signora. Chi la piace? Bravo, la fai passare, vai parti, parti, piano piano. Ora sterza tutto, lo facciamo all'incontrario, sterza tutto e tordi indietro, vai tutto. Quindi tutto lo facciamo tirare? Sì, vai verso il melocrano, bravo, addrizzati, vai verso quella macchina celeste, verso quella celeste, non accelerare, quantomeno non così, senza accelerare gira a destra, incomincia ad addrizzarti, incomincia ad addrizzarti, ma tu quello che io dico tu lo senti? Eh no, perché mi sembrava ancora... Ma tu io saprò quello che schedo, vai dritto, costeggia il muro, muove un po' più avanti e poi sterzi a destra. Come finisce il muro? Sterzi a sinistra, facendo attenzione alla macchina nera. Passi vicino, non troppo vicino, allargati un po', eh. Ok. Vai un po' verso il muro, poco. E adesso tutto a destra. Senza accelerare, perché qui è una curva stretta. incomincia a pieno pieno ad addrizzarti, devi costeggiare la staccionata. Così. E vai dritto fino alla perella. Che pilota uno, eh. Qua giri un po' a destra, mantenendo lo spigolo, la laterale, la circonferenza, di sto parcheggio. Vai dritto. Fida la macchina celeste. Come passi la macchina celeste, sterzi a destra. Troppo prima. Addrizza, addrizzati, addrizzati. Vai dritto lì. Lì al coso bianco di giri. Gira. Adesso qua, ti fermi. Fermati, piano piano, delicato. La frenata è delicata, fermati. Fermati. Così, bravo. No, riparti e rifermati, perché sta troppo brusca la frenata. Più delicata. Fermati. Oh. Good. Very good. Good driver. Oh, basta, ti mando a casa. Eh, ma c'è l'ultima curva. Oh, ferma. Sì, lo sentito anch'io, beh. Oh no, non ci ho scoperto di quella macchina. No, quella è l'ultima. Tu devi addrizzare prima la macchina, non troppo all'ultima. Allora. Ora, ora gira a destra. Aspetto. Gira subito un attimo. Fai un'acceleratina e poi ti fermi. Sì. Una bella acceleratina, vai. Drizza, acceleratina. No, a cannone, vai. Ok, basta. Comincia a frenare. Delicato. Così. Bravo. Lezione finita. Oggi doppia lezione. Box e guida. Ah, ma non ho visto che stava tirando questo. Aspetto. Iniziamo l'anno iniziamo.